tutti amici benvenuti su fan out 4 siamo qui oggi per visitare la mia casa a dai due vasi di cavallino e panca per pesi una coltrona quando da lavoro per anni al maturale e vicino ovviamente che c'è un altro vaso in dispensa una fonda nella dell'acqua non si sa mai se ti viene si scrive tutte le due corso che voglia di mettere il buon noto se tutto il terminale usare giocane con dei monastri trovato un atomico mondo altro di radio a se le munizioni ma c'è la mia gioia un armadietto o c'è crisi la patrice e il quale ci metto i panni facendo la spazzatura informe anche quasi dopo un caffè c'è pure una tazza da caffè poi c'è un bambino e qua un po di roba così giusto per addorbare un po e delle serie nel caso che ci fai qua saliamo qua sopra un piccolo comodino poi c'è il cassettone l'executive bed e infine c'è il nostro espositore che stavamo qua sopra visto che si possano non me ne ho mai accorto sinceramente la scala l'avevo vista però non ho mai capito se potrò costruire o no questo lo no se non sbaglio non posso costruire si possono vedere il verde gioiano del comodente che proprio verde gioiano non mi pare che cazzo che cazzo una roba ah c'è una vasca ah ma c'è una bambina peggio puoi fare eh vabbè cuccia per cani tutto bella una bella pista una sede dei vabbè una sede bene c'è una bella pista devo dire la verità siamo in uno stadio da baseball beh poteva andarci molto peggio ah bene ecco qua ah non è questa mmm dove sarà la mia x01 bene dove sarà la mia x01 non lo so 入 urullrimenti proprio hay pesa Grazie a tutti.